Buonasera signore e signori, sono EC88, benvenuti con la quinta parte della nostra Nazlook Challenge Intanto finisco di spostare i vari armamenti che ho in camera mia Dato che ho sopra la scrivania il peggio casino, aspettate che passo di sotto le cuffie, ok Siamo qua oggi con la parte numero 5, ecco qua la squadra c'è tutta, perfetto Riprendiamo dal giardin fiorito dopo aver sconfitto il team Galassia Possiamo proseguire dal percorso 205 spostandoci a nord Vedete che adesso il posto è libero, parliamo con questo ragazzo Se spari un miele su un albero profumato potreste tirare alcuni pokemon, non mi interessa Ok, affrontiamo questa fanta allenatrice che ci dice, ci dà un'anteprima di quello che succederà tra un poco Perché infatti dovremmo attraversare il bosco Dobbiamo andare nel bosco e probabilmente spero di catturare Uh, uguale a quanto Almeno un pokemon d'erba abbastanza forte Allora abbiamo un po' Qua il nostro, a parte che questo è sempre il percorso 205 Quindi no, niente, non abbiamo nessun incontro Quindi proseguiamo con il nostro cetriolo davanti Eh vabbè, detta così può sonare anche male Recuperiamo, ah no, niente Prima dobbiamo affrontare questo avventuriere Dobbiamo recuperare quello strumento, mi sembra che sia un X qualcosa E avrà una siera di geodude molto probabilmente Usiamo idropulsar, vediamo Uh, è super efficace ovviamente Cetriolo sale a livello 15 Un altro geodude è ancora cetriolo che fa salere Cioè che si fa aumentare il livello Guardate qua quanto velocemente cresce il nostro cetriolo Anche un buon attacco speciale Qua troviamo una difesa speciale X Ecco infatti, mi ricordavo che c'era qualcosa del genere Affrontiamo questa allenatrice Qua ci sono un sacco di allenatori Diciamo Per Per allenare Per allenare i nostri pokemon Questo qua è un rosella a livello 14 E già sa Mega assorbimento, buono Usiamo gli morso Per fortuna abbiamo ritirato il nostro citriolo Perché altrimenti Sarebbe stato Non una buona cosa Attenzione si era pompato per Un'ora di crescita e poi niente Quindi, allora qua su mi sembra che c'era un allenatore e uno strumento forse Vediamo un po' Ecco no, soltanto un allenatore Quindi andiamo un po' A biduf a livello 12 E usiamo pantano bomba Vediamo Vi facciamo solo togliere la precisione E basta Usiamo Idropulsar E ancora Non basta Ecco perfetto Adesso è bastato Sarà a livello 16 Cetriolo Quindi Intro forza Questa Una mossa che voglio far scordare Perché di solito Qualche volta è ghiaccio Vediamo un po' adesso che In che cosa mi da Brutto colpo Non mi da niente Boh Mettiamo vaniglia Perché in questo caso Dato che è paciso Un pokemon Magari Elettrico Può avere Non so perché ho usato scintilla Appunto qualche mossa elettrica Usiamo gli azione Brutto colpo di nuovo Buono Un sacco di brutti colpi Vaniglia Sale a livello 15 quasi E tra un poco Credo che si evolverà Allora qua troviamo Due bacche arance E la bacca pesca Se non mi ricordo male Esatto Ho uno spacco nel labbro E non riesco molto bene a parlare Cioè Alcune lettere Mi tocca farle Più piccole Del solito E vengo Proprio adesso C'è un'apertura Che permette La circolazione d'aria Nei sotterranei Ok Da una partita Qui non mi ricordo Forse Ecco C'è la polvostella Di gioco delle armi Che ho fatto con Black Dany Che saluto ovviamente E ci siamo molto divertiti Tra l'altro ho fatto La killcam In 360 Con il coltello balistica Saltando E il problema È che Il Il grazie Del Call of Duty Black Ops 2 Ha dato l'ultima A lui E non mi ha Non mi ha fatto vedere La La mia 360 Attenzione Perché sgomento Ci toglie un sacco Ok Quindi penso che sia A questo punto Gelo In troforza Perché Gli ho tolto Cioè Era Normalmente efficace Quindi Presumo che Vaniglia sale a livello 15 Tra un poco Ah ecco Infatti vi dico Tra un poco si evolverà Ed eccolo qua Vaniglia si sta evolvendo E si è evoluto Il Luxio Perfetto Abbiamo già anche La prima evoluzione Anzi Diciamola che è la seconda evoluzione Allora Vediamo un po' Vaniglia 35 di attacco Buono Anche la velocità È aumentata Discretamente Quindi Manderei avanti K però A questo punto Eh Diamogli una Pozione Che non ho Quindi Possiamo proseguire Anche così Per ora Allora Qua c'è un altro Avventuriero E non ho voglia Di assolutamente Diamo Cetriolo Diamogli una bacca Vai Almeno Qualcosa Eccolo qua Bacca arancia Usa Una E due Vai Come una pozione Affrontiamo questo Simpatico Avventuriero Troviamo un altro Shellos Un sacco di Shellos Ci sono Shellos Che è molto divertente Perché se ne possono trovare Di due colori Se vi ricordate Rosa e blu A me piace molto Quello rosa Molto sensuale Però anche quello blu Non è affatto Brutto Uh Quasi a livello 17 Quindi Eh perfetto Ancora Un altro Allora Questa fanta allenatrice Mi sembra che Abbia qualche Pokémon Boh Mettiamo Capper Dai vediamo un po' Che Pokémon ha Forse qualche Meditite No Ma c'ha Machop Utiamogli Sgomento Beh Brutto colpo E usiamo Adesso Morso Che non è molto Efficace Però lo fate Internare Diciamo di nuovo Sgomento Il problema è che Capperon non ha Non ha mosse Di tipo Volanti Vediamo Vaniglia Perché Mi ha tolto Veramente Mi ha fatto Il sacco di Full misguardo Quindi mi Non mi piaceva Quella cosa Allora Qua cosa troviamo Un Revellente Buono Qua non possiamo andare Diciamo a destra Oh no Non so Un po' Se andate in quella casa Adesso ci andremo Verremo curati Quindi questa è una cosa Molto buona Un brutto colpo Immediato Vai vai Con Morso Che lo facciamo Tentennare a ruota Attenzione Uuuuh Se la rischia lui Cappero Sala a livello 15 Ma che rischio Che rischio Per Cappero Che rischio Allora Andiamo qua dentro C'è questa signora Che ci cura la squadra Quindi perfetto Non mi ricordo mai Di questa signora Qua c'è uno strumento Attenzione A non andare troppo in giù Perché altrimenti Ricadete di sotto E dovete rifare Pallosamente Tutto da capo Allora Bosco di Evopo Qua c'è un Questo non è un allenatore normale Mi sembra che Ci dice che appunto Nel Bosco di Evopoli Si può entrare Qua Si è un'altra entrata Del Bosco di Evopoli Ma si può entrare Soltanto Grazie all'MT Italia Cioè si può soppassare Il Bosco di Evopoli Però dobbiamo Noi ovviamente Dobbiamo entrare All'entrata Troviamo Demetra Che appunto Verrà con noi La dovremo accompagnare Dall'altra parte Tutto il Bosco E in cambio Ci tirrà Ci tirrà Ci terrà Oh che c'è Un bug Ci terrà appunto La squadra curata Quindi Il nostro Altro incontro Del Bosco Di Evopoli Vediamo un po' Cosa sarà Oh Eh vabbè È una lotta doppia Che cazzo si prende Boh Eh vabbè A questo punto Boh Vediamo un po' Chi resiste Boh Non saprei nemmeno Eh come si fa Boh Eh in questi incontri qua È molto difficile Cioè Come si potrebbe fare Ora Vediamo un po' Devo studiare un metodo Per Per cosare Per riuscire a catturare Allora qua c'è una pietra Quella la è una pietra foglia Che è appunto Eh incastonata All'interno del bosco Se ci portate ivi Lo fate Eh salire di livello Vicino Alla Quella Quell'erba Quella Quella cosa Si evolverà In un Lifheon E dato che nella prossima città Ci porteranno appunto Ci regaleranno un ivi Se non mi ricordo male Io ero anche per Oh porca puttana Oddio Io ero anche quasi quasi per Utilizzarlo Però Ora vediamo un po' Chi incontriamo anche qui dentro Dobbiamo vedere un po' Cova uova Cova uova di scienzi È utilissimo Azione Tutti su scienzi Quasi quasi attacco anche io scienzi Se usassi anche uova bomba Le sarei Le sarei contento Due anni Usiamo scintilla su warpol A vedere se Almeno uno Non mandiamo ko Oh perfetto Scienzi è paralizzato Perfetto Un altro Silcun Ecco perfetto Abbiamo avvenenato anche vaniglia Che siamo molti contenti Sarà livello 16 Vaniglia Beautyfly verrà colpito da Scintilla E penso che sarà Super efficace Però ora voglio vedere Perché Ho paura che non resista Molto vaniglia Sostituiamolo E Mandiamo Loro due sono morti Cetriolo Che difesa che ha Vaniglia sale a livello 17 Cetriolo sale a livello 17 Perfetto Ottimo direi Quindi a questo punto Niente Cappero è quello che deve essere Un po' più allenato Riprendiamo Un antiparalisi Vediamo qua Che possiamo Cioè come potremmo fare Non lo so A parte che posso tornare dopo Giusto Io non devo tornare Cioè non lo devo catturare Per forza Quando usciamo dal coso Faccio uno per uno Appena esco dal bosco Poi rientro E lo catturo Insomma da me solo Anche perché Sennò veramente È una cosa impossibile Perfetto Super efficace Uh Si è a livello 16 Quasi Cappero Levelo 17 O 19 Mi sembra che impari Attacco d'ala Uno dei due Un altro Abra Sempre a livello 17 Non l'ho affrontato In dopo perché È molto Palloso Così almeno si fa prima Proseguiamo Quaggiù c'era Uno strumento Che devo avere Per forza Demetra Che poi Demetra Non mi ricordo Ai fini della trama Non credo che Compaia Altre volte Burmi Ecco un altro Pokémon che possiamo Trovare se spalmiamo Fai dire sanguisuga Quanto Quanto Se spalmiamo il miele Eh va bene Dai Possiamo trovare anche Burmi Non abbiamo tolto niente Eh Un altro Vabbè Dai Dai Oh madonna Ragazzi Un altro Burmi Eh vabbè Cioè Ci sta due giorni Boh Perfetto K però quasi A livello 17 Perfettissimo Questa squadra Mi piace Per ora non Stiamo andando bene Soltanto 7-8 morti Però Non è male Da Stax Dustox Mi è sempre piaciuto Come Pokémon Era molto carino Anche nel Nell'anime Nel cartone Era molto divertente Mi ricordo Oh porca troia Chiamo Vaniglia Va Perfetto Siamo stati Previdenti Capro sale A livello 17 Finalmente Impara Attacco Dala Tegliamo Sgomento Che tanto Non serve a niente Invece Attacco Dala È un'altra cosa Diamo Scintilla Uh Paralizzato Veleno Spina Avvelenato No Invece Pensavo che me l'avvelenasse Ok Quasi a livello 18 La nostra squadra È già curata Quindi proseguiamo In the top Consigli utili Nevois che nelle grotte Sono strumenti per terra Che non si vedono A causa delle foglie E vabbè Noi andiamo a prendere Questa qua Che è una pozione Io tutti gli altri strumenti Che erano qui dentro Non mi ricordo A parte che non ci ho mai Fatto tanto caso Ma Non credo che siano fini Cioè importanti Ai fini della trama Anche questi Raccogliere tutti questi strumenti Tanto Non è che ne possiamo togliere Buneri Mi piacerebbe Come Pokémon Perché Se ne vuole Velo Panni È anche abbastanza veloce È un buon attacco Vedremo Questo è l'affronto doppio E quindi Cosa ne pensate Quindi se Al posto di prendere Cioè Io rientro Catturo il Pokémon All'interno del bosco Bla 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 Ma se dopo io invece No comment No comment ragazzi No comment Cosa ne dite Se Appunto Invece di Dopo di usare Insomma In quel caso Il Pokémon del bosco Lo faccio Come si dice Faccio evolvere Eevee qua dentro Ditemi un po' Cosa ne pensate Di questa Possibile idea Comunque sia Dato che è la Naziruk Challenge Posso Scegliere qualsiasi Pokémon Basta che l'abbi catturato All'interno del mio box Magari potrebbe essere Una buona idea K però Ha rischiato La morte Ha rischiato La morte Fisica E mentale Perché l'avrei Distrutto Un Dustox Selvatico Questo sarebbe meglio Che lo abbata Che mi dà un sacco Più di esperienza Infatti 322 Infatti Almeno siamo più sicuri Usiamo Un tacco d'ala Su Beudiu E sarebbe Lo 18 Anche Cappero Buono 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 Allora Qua troviamo Un corcio verde Ok Un Pokémon Selvatic Due Uh Gasly Anche Gasly Non sarebbe male Da Da cosare Ovviamente Su chi vuole Che la Che la mandi La maledizione Se non su Cappero Non sarebbe male Allora Qua se vi ricordavate L'ultima volta Che siamo passati Di qui E siamo andati Dentro Con la recinzione E' stato quando Abbiamo catturato Rotom Nella Nella vecchia Nella vecchia Guida Pokémon Platino Che poi era La forma frigorifero Mi sembra Che gli avevo dato Mi pare Allora Usciamo dal percorso 205 Nel percorso 205 E rientriamo Nel bosco Di Evopoli Perché adesso Avrà Appunto La sfida La nostra Naziluk Vediamo un po' Per il bosco Di Evopoli La nostra Cattura sarà Diu Diu Perfetto Usiamo gli Sanguisuga Non gli Non gli Utilizzo Morso Cioè Attacco Dalla Provo Scordarsi Altra Sanguisuga Ok Usiamo Per il bosco Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.